L'equidazione tradizionale viene insegnato in tutte le scuole a fare il nodo quello che si scioglie tirando e che fondamentalmente è questo, si fa questo Il problema di questo nodo è che se il cavallo tira forte, forte forte, qua si stringe a tal punto che io anche se vado a scioglierlo tirando è difficoltoso perché si stringe su se stessa la corda quindi io devo fare molta forza per riuscire a scioglierlo Nella liquidazione naturale invece il nodo che si tende a fare più spesso è quello chiamato bankrober o raffinatore di banca che è invece a questa maniera Asola, passo dentro l'anello poi con la parte finale della coda della corda passo sopra, dentro e tiro A questa maniera anche se il cavallo tira fortissimo da questa parte il nodo non stringe la corda sulla parte che io devo sciogliere e quindi per liberarlo basta che faccia così e si scioglie completamente